Mano a mano che prosegue questa avventura mi rendo conto di aver fatto una cosa incredibile qui. Ho iniziato una cosa che devo per forza finire e non so se sarò in grado perché mano a mano che penso a quello che verrà dopo mi metto paura da sola. Va bene andiamo avanti allora adesso ho aperto la scatoletta così almeno abbiamo evitato la noia mortale di vedermelo aprire in diretta anche perché vabbè non ci ho messo moltissimo. Guardate che bello questi tre tagli qui sopra. Purtroppo non avendo chiuso prima la finestra mi tocca fare ciò. Dai per favore ragazzo ma quanto non è possibile ad un certo punto devi anche cascare. Eh che cos'è adesso la chiudo anche se non ritorneranno mai da questo da questa apertura ma mi sento più tranquilla a chiudere così. Allora facciamo così così. Eh vedi volevi fregarmi. Dai. E che cavolo. Oh. Bene. Perché adesso il mio intento era quello. Vabbè innanzitutto. No volevo chiuderti e tu invece sei uscita. Io ti odio. Vedi che... No 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 perché mi hai fatto... Ma tu da dove vieni fuori? No non l'avevo mai sentito urlare così. Povero caro. Aspettate un attimo che prendo le distanze da tutto ciò. Ma no non ci credo non è possibile. Si sta veramente arrabbiando poverino. Eh... C'hai ragione. Non c'è mai successo questo prima. Porca miseria. Va bene allora facciamo così. E li tagliuzziamo tutti che mi piace tantissimo. E poi chiudiamo visto che le abbiamo queste cose. Ok è successo l'imprevedibile perché non mi era mai successo di vedere questa scena. Chissà perché non l'avevo mai fatta così. Vabbè. Sento ancora rumori strani. Il che potrebbe voler dire che non abbiamo ancora finito. Ma va bene. Ehm... Ma perché tutto ciò? Sono... Allebita. Veramente. Si vede che non c'ero più passata di qua. Ah devo andare a prendere tra l'altro la cosa che ho lasciato lì. Per tagliare il... Per tagliare le catene. È possibile che non mi viene eh. Non mi viene per niente il termine. Allora no. Non era qua che dovevo andare ovviamente. Ma era di qua. Qua. A mettere il tastino. Che ora ho. Così giusto perché mi fa piacere. Se lo mettiamo qua. Ok. Ok. Messo quello. Andiamo a vedere. Ecco. No. Eccolo lì. Servono tutti e due. Figuriamoci. Allora era il 103. E adesso mi rendo conto che Dovevo metterlo nel 2 ovviamente. Non è come lo posso riprendere no. Vabbè. Non mi ricordavo più e quindi Sono andata un po' a caso. Va benissimo. Va benissimo lo stesso perché tanto stavamo quasi consumando il nostro di Di coltello e quindi adesso ne abbiamo un altro. Ok. E qui il problema è che non abbiamo lasciato abbastanza spazio per Lui. Ah no ma adesso tanto lascio giù questa. E quindi siamo a posto. Sì tesoro. Vieni. Carissimo. Perché con i leakers purtroppo è così. Allora sì cambiamo. Va bene sotto. Teniamolo sotto. Va bene così. Ok. Ricarica nel In tempi molto lunghi. Almeno per la sottoscritta però va bene lo stesso. Allora qui sì dobbiamo ancora fare un po' di cose. E d'accordo. Vabbè almeno questa qua è fatta. Adesso dobbiamo andare. Dunque fatemi pensare. Sì passiamo di qua. Questo è sempre il mio posto preferito dove passare. Quando devo fare certe... Devo fare avanti e indietro perché qua è più semplice. Ok qua c'è ancora Marvin. Tutto bene ancora? Posso spararti ora? Io ti sparo eh. Ah non me lo fa neanche puntare. Fantastico. Ok mi pare da qua sì perché poi dobbiamo andare sotto, tagliare lì, tagliare là e sì da qua per forza dobbiamo passare. Vai vai Leon. Correrai, correrai moltissimo. Correrai soprattutto dopo. Qua vi ho preso tutto sì. Ok. Avevamo lasciato qualcosa in giro qua. Una erbetta sì. Ah già. Adesso qua è pieno di gente brutta. Ma granate non ne posso trovare perché mi servirebbero. Mi servono un sacco di granate. Dove siete? Non so neanche chi sia questo tizio. Da dove è uscito? Da dove è sbucato? Dove stava prima? Ecco. No. Non per un caso rialzano. Chi ti ha detto di rialzarti? Posso? Contare sulla tua morte? Ok. Ok. Direi che siamo abbastanza sicuri. Sì. C'è ancora qualcuno. Dall'altra parte probabilmente. Va bene. Allora lasciamo lì. Preferirei saperlo morto però va bene. Oh eccoci qua amico caro. Adesso cominciamo a ragionare. Si sto portando dietro un sacco di stronzate. Come avevo detto che non avrei fatto. E invece lo sto facendo. Bene. Vorrei tanto sapere quanti di voi sono morti. E quanti di voi mi stanno prendendo in giro? Tu potrei anche crederti. Oh. Te no. Tu sei un infame che sta cercando di fregarmi. Tiro fuori il fucile. Non farmi tirare fuori il fucile perché non è il caso. Sta lì. No. Sta lì ti ho detto. Mannaggia. Guarda. Non serve a niente. Ma la metto lo stesso. Perché mi piace di più così. Ha proprio un bell'aspetto. Allora. Tu. Non ti credo. Assolutamente. Ah. Invece sì. Aveva. Diceva la verità. Dai. Fammi aprire anche qua. Non mi ricordo quanta gente c'è da ammazzare da questa parte. Adesso ce ne... Faremo una ragione. Oh. Ciao. Ecco dove mi serviva. No. Ho finito i colpi. Non ci credo. Non è possibile. Ma seriamente. C'è una granata. Una granata. Pensate un po'. Ehm. Ok. Qua il problema è che dovevo tenermi la... La cosa. No. 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 Lasciami stare. Lasciami stare. Devo prendere il fusibile perché sennò è un... Senti va bene userò questo. Cosa devo fare? Ed è anche entrato. Boh. Abbiamo perso ogni nostra possibilità di... E ti sta facendo consumare un sacco di colpi però. Ah. L'hanno preso in mezzo perché... Almeno... Vediamo se riusciamo a finirlo così. Ok. No. Dove sei? Ma dove eri? Dove stavi? Perché? Perché? Vi odio tutti. Dove stavi tu di là? Ragazzi guardate no guardate. Guardate come lo sto conciendo e non riesco ad ucciderlo. Bellissimo. Io credo che prove del genere dovrebbero essere messe in qualche classifica comunque. Cioè voglio dire. Alla fine credo di meritarmelo. No non è qua che voglio andare qua. Questo qui c'ha... Ah ecco aveva dei colpi pensate un po' e me l'ho scordata. Ok ricarichiamo. Tu sei andato completamente. Io direi che mi prendo questa erbetta perché mi sembra giusto. E questa qua me la tengo da parte. Va bene. Direi che qua non c'è più niente da fare. Ah no c'è un coltello pensate un po'. Ah no il fusibile dovrebbe essere. Ah ok. Così possiamo andare ad aprire di là. E qui invece c'era... Ah già la... La manopola. Beh queste qua... No non voglio metterle insieme a quelle. No no no. Torniamo dopo a prenderle. Perché già comincio a fare cose che non voglio fare. Perché non era così che dovevo fare. Dovevo portarmi dietro poche cose giuste. Perché ormai sono diventata talmente brava con questo gioco che... Avrei dovuto... Sento rumori. Va bene. Allora. Mettiamo via... Questo. Effettivamente non serve. Questo ancora serve. Questo ci pensiamo dopo. E questa pure perché le uso tutte per... Per... Gertrude. E quindi... Ok. Ok. Grazie.